Se ti sorprende è Comet. Entra nel futuro della TV digitale e goditi immagini spettacolari in alta definizione. Scegli la tua nuova TV per non perdere il segnale e approfitta del Bonus TV. Negli oltre 100 punti vendita e anche online. Sottocosto Comet. Sony Bravia OLED TV 48 pollici con neri profondi a 999 euro. Con Bonus TV a 899 euro. Comet. Come te. Comet. Come te.